Ma devi puntare a caricare tanto? Cioè, nel bodybuilding dobbiamo ricercare il carico, è importante migliorare sulla forza, arrivare a caricare sempre di più? No, perché ci sono idee confuse, c'è chi crede che bisogna puntare al carico, bisogna migliorare il carico, procedere e gradualmente progredire su quello che noi solleviamo, che invece dice, il carico è il mezzo, non è il fine nel bodybuilding, dobbiamo fare un passetto indietro, concentrati sul muscolo, stai tutto concentrato sul muscolo, eccetera, e il carico non te ne devi preoccupare. Questi sono i due estremi e oggi vedremo qual è la risposta, e come sempre, prima di iniziare, io vi invito a seguirci qua su YouTube, perché è importante che ci seguiate, abbiamo un network di tantissime persone che guardano i video e non mettono iscriviti al canale, a noi ci date veramente una grande mano, a voi non costa niente, quindi mettete iscrizione e partiamo con questo video. In realtà ho un video che voglio fare perché su Instagram ho fatto dei piccoli short, Instagram TikTok, eccetera, in cui ho lanciato dei messaggi che hanno confuso molte persone, cioè da una parte ho detto, se vuoi diventare grosso diventa ridicolmente forte sui carichi, dei piccoli short di 10 secondi, no? Delle frasi incipit, e poi dall'altra parte ho detto, il bodybuilding è una gara a chi solleva meno, ok? Quindi non devi puntare a, cioè questa frase un po' provocatoria, ma anche simbolica, che nel bodybuilding non devi puntare a sollevare più degli altri, ma è una gara a chi solleva meno in realtà. o a un altro video che ho fatto ho detto, cerca di rendere il carico quanto più pesante possibile per il distretto target, cioè il carico ha un suo peso di per sé, però devi cercare poi di renderlo ancora più pesante, sta a te cercare di farlo per il distretto target. Quindi se riesci a rendere pesanti 4 kg, due manubri a 4 kg per il deltoide laterale, con biomeccanica, con tipologie di lavoro, eccetera, con connessione mente e muscolo, logicamente non stando mezz'ora, perché sono tutti bravi, allora sicuramente hai raggiunto un ottimo obiettivo. E questi sono tutti incipit che do per arrivare poi a un ragionamento che dobbiamo fare tutti insieme, quindi il ragionamento dov'è il punto di incontro di questi messaggi. E il punto di incontro è che tutte queste cose sono vere e sono straordinariamente importanti, ma bisogna capire cosa arriva prima e cosa arriva dopo. Ossia, innanzitutto, io parlo sempre di quella che è una gerarchia, la gerarchia dell'ipertrofia. Ho fatto diversi video sulle diverse piattaforme. La gerarchia dell'ipertrofia vede alla base di tutto la forma. La forma è la cosa più importante che dobbiamo tenere e sicuramente all'inizio bisogna lavorare tanto sulla forma. Una volta che la forma, l'esecuzione, gli schemi motori, la padronanza del gesto, l'attivazione muscolare è stata allenata, dobbiamo passare allo step successivo che è l'intensità. Quindi ho una buona forma, sono riuscito ad ottenere una buona forma, ora devo riuscire a mantenere questa forma con gradi di effort via via più elevati. Perché? Perché normalmente le persone quando parlano di cedimento dico eh vabbè ma cedimento ma poi sporchi la forma. Il cedimento non è sporcare la forma, se sporco la forma sto facendo un altro schema motorio, quindi non sto proprio toccando il cedimento. Il cedimento presuppone, come concetto suo intimo, il mantenimento di una forma inalterata. Ah, quindi una volta che ho raggiunto la forma devo poi allenarmi, e questa è una cosa che richiede veramente almeno una decina d'anni di lavoro, eccetera, sul raggiungere il cedimento senza sporcare la forma, quindi l'intensità. E poi l'ultimo tassello della piramide è il carico che deve migliorare nel tempo. Quindi ovviamente una volta che ho raggiunto una buona forma e riesco a tenere questa forma con gradi di intensità elevati, devo poi riportare questa intensità su un miglioramento del carico. Perché a fare una serie in buffer caricando tanto è un discorso, ma poi riuscire a portare quella serie con quel carico a un cedimento, a chiudere quelle ripetizioni extra, è tutto un altro paio di maniche. Quindi non hai veramente quel carico in un'ottica di forza del bodybuilding, logicamente lo hai se c'è una buona forma, eccetera, però in un'ottica di forza del bodybuilding, in un'ottica di carico efficace, utilizzabile a fine ipertrofici, non lo hai veramente se non sei in grado poi di tirare fuori tutto quello che puoi tirare da quel carico. Perché molti lasciano tante reps in riserve perché non sono abituati, non sono in grado di portare poi carichi importanti al cedimento. Quindi ovviamente c'è una gerarchia, io finché non riesco a mantenere una buona forma, una buona intensità, il carico non lo considero un carico utilizzabile. Quindi capiamo che alla base di tutto c'è il capire cosa viene prima, ma nel bodybuilding la forza, che cos'è? Perché la forza è importante nel bodybuilding, questa è una cosa che dico. Ho detto vuoi diventare grosso, diventa ridicolmente forte su tutti i distretti. E il problema è che la forza qua, che cos'è una forza in ottica bodybuilding? Perché la forza può essere tante cose, un qualcosa di astratto. Uno strongman è forte se fa degli schemi che sono molto sinergici, quasi scomposti, che riesce a chiudere in tempo determinati schemi che non sono standardizzati. Cioè come lo fai? Lo fai, basta che lo fai. Un powerlifter è forte se riesce a sollevare con un determinato schema i tre big, seguendo un regolamento specifico. Il bodybuilder quando è forte? Il bodybuilder è forte quando la forza, quindi il carico, può essere utilizzato a fini ipertrofici. E per utilizzarlo a fini ipertrofici vuol dire che è un carico che io riesco. Innanzitutto è un carico su rep range vari, diversi. Quindi non un carico massimale, non mi interessa. Un bodybuilder sarà forte in ottica PL, però un bodybuilder forte in ottica forza bodybuilding è un bodybuilder che è forte su diversi rep range. Quindi è forte sul 5, RM è forte sull'8-10, è forte su 10-12, 12-15 eccetera eccetera. Quindi tutti i rep range che sono utili all'ipertrofia. E poi la seconda battuta è che è in grado quel carico, ok, quel tuo carico con cui, diciamo, potenza massima riesce a farmi 15 ripetizioni, e tu devi essere poi in grado di farmi 15 ripetizioni senza alterare la forma. Ma questa è la forza del bodybuilder, perché molto spesso ci sono molti bodybuilder che hanno carichi importanti, ma non sono in grado di portare a cedimento. Cioè, a un certo punto, quando stanno a totter app, si bloccano perché l'impatto è molto forte, perché è una skill che deve essere allenata. Quindi la forza nel bodybuilding è questa. È un carico che io sono in grado di portare su diversi rep range, e sono in grado di portare al massimo cedimento con la forma. Quindi, quando parliamo di forma, stiamo parlando del, ovviamente, schema motorio, ma stiamo parlando soprattutto di un discorso di connessione mente-muscola, quindi cercare di, a priori, rendere il carico pesante. Quindi io parto da zero, questa è la prima cosa che devo fare. Ho un carico che è irrisorio, lo devo rendere pesante per il distretto target. Ho fatto il video sulla connessione mente-muscolo, quindi rimando a quel video qua su YouTube. Questa è la prima cosa che devo fare. Ora, una volta fatto questo, e reso il carico pesante, e una volta che sono riuscito a portare questo carico pesante anche al cedimento, ora questo carico esterno, esternamente, lo vado a aumentare. Perché questo? Perché è l'ultima forma di progressione, per questo è l'ultimo tassello della mia gerarchia dell'ipertrofia, il carico. Perché è dove poi tutto arriva alla forma di progressione che non si può scampare da quello. Quindi che cosa vuol dire questo? Che io progredisco innanzitutto migliorando la forma e quindi rendendo il carico sempre più difficile, lo stesso carico. Progredisco riuscendo a portare, a strappare ripetizioni in più, a portare i livelli di intensità sempre più alti, più alti, più alti. Poi all'ultimo, una volta che questo carico è pesantissimo, che riesco a strappare, proprio a dire fuori tutto quello che riesco, come faccio a progredire ulteriormente, a fare una progressione, eccetera? E la faccio aumentando il carico esterno. Ma, una volta che ho aumentato il carico esterno, devo salvaguardare quelle che sono le due condizioni che ho conquistato. Quindi questo carico esterno lo aumento, ma io devo riuscire a salvaguardare il fatto che riesco ad avere uno schema motorio, ottimare una buona connessione di intensi, e riesco a portarlo a cedimento. Che è la cosa difficile, perché aumento un po' il carico esterno, qualcosa rischio di prendermi per strada. Quindi mi conviene aumentare il carico esterno, stare là, riuscire a ottenere il massimo, una volta che ho preso confidenza aumento un po' il carico esterno. E continuo questo gioco. Quindi, progressivamente, vuoi diventare grosso? Direi, diventa ridicolmente forte su tutti i rep range. Questo è lo schema. Però il forte non è sloppy reps a caso, buttate là o massimali o quello che ti pare. Il forte vuol dire con una buona connessione di mente e muscolo. Cioè, io prima mi metto in difficoltà, e poi spingo col carico. Prima work smarter, quindi mi alleno in maniera più intelligente, e poi then work harder. Quindi mi alleno in maniera più tosta, quindi prima più intelligente, e poi più tosta. Quindi questo è un po' il recap di tutti i messaggi che ho dato, che so che possono sembrare confusionari, però ragazzi, quando faccio questi piccoli messaggi, sono delle piccole chicche che faccio proprio per cercare di sollevare un tipo di ragionamento. non voglio darvi il messaggino tipo, ok, pappa pronta, ma mi piace, oddio, aspetta, perché è ridicolamente forte? Ma perché di qua? Ma perché di là? E chi mi segue riesce a ricollegare tutti i pezzi. Quindi assicuratevi di seguirci su tutte le altre piattaforme, Instagram, TikTok, eccetera, stanno tutte qua sotto in descrizione, per non perdervi nessun contenuto, perché poi ogni piattaforma ha una sua tipologia specifica di contenuti. E detto questo ragazzi, qua sotto nei commenti per qualsiasi osservazione e riflessione, e per il resto noi ci vediamo al prossimo video.